Appreso il via, proseguirà per 15 giorni l'impegno del personale e dei mezzi di Monteco SRL, coordinati dal settore ambiente del comune di Lecce, che attraverseranno la città per un servizio straordinario di pulizia di strade, piazze e marciapiedi, con l'impiego di acqua e prodotti igienici autorizzati da ASL. Il servizio sarà attivo due volte al giorno, mattina e sera, prestando attenzione a diverse zone della città, dal centro storico alla zona commerciale quartiera Riosto e Circonvalazione, per poi andare in tutti gli altri quartieri centrali e periferici. Un impegno ulteriore tiene a precisare il primo cittadino, che potrebbe servire a rendere più difficile la diffusione del virus, che al momento ha cambiato l'equilibrio della nostra città, obbligando i cittadini stessi a modificare le proprie abitudini di vita. Lecce, infatti, sembra aver recepito più di altre città le regole imposte dall'ultimo decreto ministeriale, tanto che a tutte le ore del giorno le strade appaiono deserte e popolate solo da chi deve effettuare degli spostamenti necessari e documentati.